Ciao amici benvenuti nel mio canale. Oggi condividerò un nuovo video per voi. Il rapporto tra Gokberk Demirci e Ozge Jagiz continua bene. Gokberk Demirci ha fatto una tale mossa per conto della sua relazione che rimarrai molto sorpreso di sentire. Ozge Jagiz ha avuto molte sorprese da Gokberk Demirci durante la sua relazione. Ma ora la mossa di Gokberk ha lasciato dietro di sé tutte le sorprese. Gokberk Demirci, diventato uno dei nomi più chiacchierati degli ultimi tempi, ha aperto la bocca del sacco per garantirsi il futuro con l'amante Ozge Jagiz. Gokberk Servet, che ha acquistato cinque appartamenti in un sito del villaggio, ha fatto un ottimo investimento. Gokberk Demirci, che ha una relazione felice con Ozge Jagiz da molto tempo, ha sorpreso tutti coloro che hanno sentito parlare di questo grande investimento. Gokberk Demirci, che ha iniziato a recitare in giovane età e ha lavorato sodo, ha acquistato cinque appartamenti super lussuosi a Zecheriakoi. 37 milioni e 500 mila litri sacrificate un totale di 7 milioni e 500 mila TL è stato pagato per ciascuno dei nuovi appartamenti. È stato affermato che la famosa attrice ha fatto questi investimenti soprattutto per il suo amante Ozge Jagiz, perché voleva creare un bellissimo futuro per il suo amante Ozge Jagiz. Cosa ne pensi di questo trasloco? Che gli fa pensare a un grande investimento o a un matrimonio a breve? I fan di Gokberk Demirci hanno commentato che Ozge è molto fortunato ad avere un uomo come te. Grazie per aver guardato il nostro video. Ti sarei grato se condividessi con noi i tuoi pensieri sull'argomento nella sezione dei commenti.